27 maggio oroscopo al manacco insieme a mauro e tra un po anche con tutti e 12 i segni per ascoltare i nostri consigli sant'agostino di canterbury compleanni è nato un calciatore inglese un po particolare il 27 maggio nel 1967 paul gasconi il vespone nazionale conduttore di porta a porta da una vita bruno vespa è nato all'aquila il 26 maggio nel 1944 c'è l'oroscopo tutti e 12 i segni come detto la frase ci ricorda chi ha la fortuna a tutta prova trova i galli che fanno le uova ariete siete ad un giro di prova nel lavoro dimostrate le vostre abilità nel condurre quella trattativa e il successo sarà vostro non mentite su una questione delicata solo per paura di offendere qualcuno toro una grande idea illuminerà la vostra giornata tanto da darvi una doppia felicità quella personale innanzitutto e quella derivata dai complimenti ammirati dei vostri collaboratori gemelli non insistete sulle vostre posizioni intransigenti essere conciliati potrebbe significare convincere l'avversario in amore non rischiate di vanificare quanto finora raggiunto con la vostra testardaggine cancro fate meno domande e decidetevi a passare all'azione ci vuole un po di temeralietà per riuscire in una situazione ingarbugliata non per questo irrisolvibile pazienza con un familiare leone un certo pessimismo contribuirà a guidare le scelte lavorative che compirete nell'arco della giornata sarà un bene perché vi farà prevedere tutti i futuri possibili ostacoli vergine la malignità non vi si addice perciò toglietevi subito quella maschera e ritornate su posizioni più consone al vostro carattere serata noiosa ma proficua per chi ha molto su cui meditare bilancia proverete un certo senso di imbarazzo quando sarete colti in fallo da chi amate c'è aria di litigio del resto non potete pretendere di sbagliare e rimanere costantemente impuniti scorpione una grande armonia regnerà nell'ambiente lavorativo scolastico familiare che sia quest'oggi investendovi beneficamente una tentazione da non assecondare per non pagarne poi conseguenze inevitabili sagittario qualche dubbio su una trattativa che state conducendo lo avrete certo ma siccome non la darete affatto a vedere saprete convincere tutti della validità del progetto successo in vista capricorno invertire la rotta sarebbe la cosa migliore per riuscire almeno a salvare il salvabile ma orgogliosi come siete nessuno riuscirà a convincervene non piangete poi sul latte versato acquario c'è molta ostilità intorno a voi le stelle consigliano di ignorarla e di guardare avanti con fiducia è questo il primo passo verso un avvenire che dovrebbe presentarsi roseo discussioni in serata con il partner pesci sarete messi con le spalle al muro da un amico che vi ritiene responsabile di alcune maldicenze sul suo conto se siete davvero estranei come dite alla faccenda dichiaratelo con semplicità diversamente sappiate chiedere scusa